Ci troviamo al Palazzo del Monte di Pietà della Fondazione Cariparo Padova per una mostra molto suggestiva dedicata agli abbracci. La scultura evidenzia bene la figura umana educa la tridimensionalità e poi noi abbiamo fatto in modo che alcune sculture potessero essere toccate e girate, perché questo risveglia il senso del tatto che è uno dei sensi che oggi viene meno utilizzato nella relazione. Oggi l'abbraccio che tipo di valore è? Purtroppo viene poco utilizzato e quando viene utilizzato è anche breve. In realtà l'abbraccio è un contenere e contenersi con l'altro e anche ci vuole il tempo perché deve essere un abbraccio lungo perché ci possa cambiare un po' e lasci un po' la memoria, il ricordo dell'incontro. Buongiorno Martino.